Continuano le indiscrezioni sulla prossima edizione di Ballando con le stelle, in partenza il 28 settembre 2024 Tra le tante voci circolate, una delle più insistenti riguardava il possibile addio di Selvaggia Lucarelli dal ruolo di giurata Tuttavia, Millie Carlucci ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la situazione con un annuncio ufficiale In un video pubblicato sull'account Instagram del talent show, la conduttrice ha smentito categoricamente i rumors, sì, Selvaggia Lucarelli sarà in giuria anche quest'anno È una domanda che ricevo spesso, ma non c'è niente di cui preoccuparsi, ha dichiarato la Carlucci, lasciando intendere che la giornalista sarà presente per la sua nona volta come giurata Selvaggia è una presenza fissa e amata, piena di umorismo e intelligenza Perché temere il suo giudizio? Dal canto suo, Selvaggia Lucarelli ha risposto con la sua consueta ironia, non capisco davvero cosa vi possa spaventare di me D'accordo, potrei dare un brutto voto, magari boicottare il voto di Carolyn, scrivere un post pungente su di voi o coalizzarmi con Mariotto O, al massimo, dare uno zero Ma perché questa paura? Ha scherzato la giurata, sottolineando il suo approccio sempre provocatorio ma divertente Intanto, si vocifera che il dietro le quinte di Ballando con le stelle non sia esente da tensioni Secondo quanto riportato da Dago Spia, ci sarebbe un concorrente che starebbe causando qualche malumore tra lo staff, mostrando atteggiamenti capricciosi e facendo richieste fuori dal comune Occhio al generale Carlucci. A quanto pare, una concorrente si starebbe allargando troppo Di chi si tratta? Si legge sul sito di Gossip.Perora, i nomi confermati nel cast della prossima edizione includono volti noti come Massimiliano Ossini, Sonia Bruganelli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Federica Pellegrini, i cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Furcan Papali, Nina Zilli, e Friedman Alan Resta da vedere cosa succederà sul palco e dietro le quinte di Ballando con le stelle, dove l'ironia di Selvaggia Lucarelli e le performance dei VIP promettono di regalare spettacolo i colpi di scena Grazie a tutti